che ne so, te li devi scrivere, ringraziamenti. Bene, dopo aver fatto questo spettacolo nella città di Pisa, quella della torre che pende, che pende, ma è cadere giù, e io facendo il brillante abbraccio ringrazio ufficialmente il comune di Livorno. Allora, sta tutto scritto qui. E quindi grazie speciale al comune di Canso, grazie davvero. Un grazie speciale al coordinamento conosco per la pace, un grazie all'associazione Sprofondo, Acli, Ipsiacomo e Shapuri. E lasciate il nostro grazie più grande, vada a Mauro. Grazie. Perché sennò usciranno con gli occhi. Grazie, un buon volume sul nostro teatro, così vi ricordate. Grazie, grazie. E il vostro passaggio a Canso. Grazie. Grazie. Applausi. 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 Grazie. Grazie. Grazie.